La prima ordinanza anti-assembramenti col divieto di stazionamento nelle strade della Movida del Centro Storico durante i pomeriggi del weekend è arrivata all'ora di pranzo di sabato, mentre la chiusura per una settimana di alcuni spazi gioco e playground della città è stata ufficializzata quasi a ora di cena. Questo sicuramente non ha facilitato la comunicazione ai pratesi dei nuovi divieti imposti per limitare il contagio da coronavirus, ma semplicemente guardando le immagini girate ieri da TV Prato si può ben capire come un buon numero di pratesi non abbia rispettato le nuove regole. I controlli ci sono stati soprattutto nel sabato pomeriggio e domenica dalle 5 in poi, poi si sono arrivati assembramenti in piazza delle carceri, in piazza San Francesco, però un po' di assembramenti ci sono stati, soprattutto sono arrivate segnalazioni fuori, nei paesi, Paperino, Filettole, Galciana in vari luoghi dove si chiamavano. Sono state fatte alcune sanzioni, se la gente non sta attenta tocca intervenire con queste ordinanze, vediamo se dovesse servire inasprirle, si inaspriscono. Se l'ordinanza di chiusura di alcuni spazi gioco è stata rispettata, gli altri parchi cittadini in cui l'accesso era consentito sono stati presi d'assalto dai pratesi. Uno dei casi più emblematici è stato quello della zona del Macrolotto Zero, dove alla chiusura del playground di Via Colombo faceva da contraltare la presenza di ragazzi che giocavano a calcetto nel playground di Via Giordano. Se questi sono i numeri, nel senso se continuiamo con questo trend, se il virus continua a circolare in questo modo, credo che Prato, buona parte della Toscana finirà in zona rossa. Noi abbiamo provato a prendere quelle precauzioni che servono per quello che possono servire, perché la città è molto grande e che magari hanno dato effetti positivi in centro e nello stesso tempo abbiamo avuto o continuato a ricevere in questo fine settimana segnalazioni da varie parti della città. In alcuni casi siamo riusciti a intervenire, in altri è praticamente impossibile. Ma quale sarà il destino della nostra provincia dalla prossima settimana? Notizie certe si avranno solo venerdì, ma intanto i sindaci già da metà settimana proveranno a dare indicazioni su quelle che saranno le restrizioni da lunedì prossimo. Con i miei colleghi della provincia abbiamo detto di fare un punto mercoledì. Non possiamo decidere mercoledì perché bisogna aspettare formalmente il venerdì pomeriggio quando c'è questo comitato toscano che dà le indicazioni per quanto riguarda la nostra regione, però vogliamo uscire di lì con un'indicazione di massima abbastanza precisa. Cioè se vediamo che i numeri sono clamorosamente fuori, bisognerà iniziare a tutti quanti a attrezzarci per diventare zona rossa. Grazie. Grazie.